...di rimettermi in forma per farla, voglio dire, io non sono un concorrente, un concorrente, davvero? Sai leggere il rotolo? Di cazzo? Non avrei mai dovuto farlo. È un semplice faccio in carta, non si pare. L'un deve partecipare, se non lo farà posso prendermi la... ma anche io adesso. Fermo, non puoi prendere l'anima di una persona che non ha fatto niente.